partiamo da una novità nel senso che abbiamo una nuova versione di obsidian che porta con sé alcune novità tra cui la nuovo plugin si chiama bookmark ha sostituito lo star star red che avevamo visto nello scorso episodio effettivamente non serviva a molto e anche una migliore esperienza nell'anno della search perché come vedete rispetto a prima rispetto al video magari che avete visto la volta scorsa è diciamo è un pochettino più chiara la search nel senso che la parte di match case di opzioni sono state messe sostanzialmente qui con un discorso di settings e quindi l'interfaccia un pochettino più pulita nel senso che sostanzialmente si si concentra solo sulla search sulla text entry e quindi se si vuole poi fare qualche modifica ad esempio match case qui piuttosto che appunto le opzioni di ricerca quindi se lo cerco ricordate la mia nota vado tranquillamente a poter diciamo evidenziare le opzioni di ricerca direttamente qui passiamo ora a uno dei concetti più potenti di obsidian in generale degli strumenti che si si occupano di gestire la conoscenza ovvero la possibilità di creare dei collegamenti tra tra le note che è una cosa proprio molto importante perché è proprio della relazione delle note che poi si crea un ulteriore valore e un ulteriore conoscenza e quindi mettendo assieme concetti anche anche tra loro diversi magari però questo poi ovviamente dipende dal dal dalla nota però qui intanto vediamo il meccanismo e quindi spero che questo possa far accendere qualche lampadina sul sul veramente la differenza tra usare uno strumento del genere e qualcosa che invece semplicemente si limita a prendere a prendere gli appunti bene ho creato semplicemente ho impostato questa queste due note quindi la legge di creazione universale con un testo che intanto adesso non ci interessa approfondire e una seconda nota semplicemente con un titolo adesso vediamo il caso più semplice e lo vediamo attraverso questi due queste due icone che poi sostanzialmente ci portano a a vedere una come come le note sono tra loro referenziate o meno quindi in questo caso andando a cliccare qua posso andare a vedere i backlink cioè tutte le note che sostanzialmente fanno riferimento a in caso a questa nota sulla legge di creazione universale in questo caso non ce n'è nessuno quindi sia menzionato c'è ovvero c'è una c'è una un collegamento esplicito e quindi c'è una quadra quadra con il titolo di questa nota che sostanzialmente viene utilizzato oppure non menzionato adesso poi vediamo vediamo più in dettaglio stesso discorso per gli outgoing cioè quelli che vanno in uscita cioè quali sono i link che escono e non ce n'è nessuno qua secondo me c'è un piccolo baglio perché dovrebbe essere zero perché infatti non c'è nessuna nota diciamo che non c'è nessun link in uscita quindi questo è il caso è il caso più semplice ho due note che sono tra loro scollegate ipotizziamo ora di creare una all'interno della legge di creazione universale vado a dire che utilizza la costante di gravitazione universale e cosa è successo è successo che obsidian si è accorto che c'è già una nota che appunto ha questo titolo e mi suggerisce di andarla a linkare se la cosa ha senso come in questo caso allora io posso andare a dire ok linka e quindi mi crea la relazione tra con l'altra nota infatti se io vado poi ad aprire la questa nota qui e vado a vedere quindi quali sono le le note che fanno che fanno riferimento infatti mi avrò una link and mention su legge di creazione universale come abbiamo fatto se diciamo non torniamo un attimo facciamo un passo indietro vediamo che la stessa cosa appunto viene anche al contrario quindi io vado sulla costante di creazione universale e anche qua obsidian si accorge che c'è una nota che potrebbe essere linkata questa volta partendo dal diciamo da questa nota entrante però il concetto è lo stesso quindi diciamo che ho due modi per creare una relazione a seconda che parto da una nota o dall'altra posso creare la diciamo il link e quindi uso sostanzialmente appunto faccio esattamente la stessa cosa però partendo dalla da in questo caso da quest'altra nota e questo è molto interessante perché mi permette adesso di fare delle considerazioni di fare evolvere delle note anche in futuro no e questo è un concetto secondo me potentissimo perché la nota non è qualcosa di statico che rimane lì ma si possono creare delle connessioni mano a mano che ci sono delle nuove note disponibili che appunto possono essere eh referenziate questa non è una cosa che necessariamente va fatta così nel senso che se io ehm vado a a scrivere magari ehm questo questo concetto posso comunque andare a vedere se c'è qualcosa eh che magari già esiste quindi posso ricordarmi ah è vero c'è questa guarda c'è una nota che si chiama costante equilazzo universale deve essere proprio quella giusta e quindi vado a a creare il link direttamente quindi lo faccio diciamo di mia spontanea volontà senza che eh diciamo mi salva il suggerimento di obsidian però questo appunto è solo se ho la percezione quindi mi ricordo che eh che questa cosa effettivamente esiste ehm quindi questo è eh sicuramente un concetto importantissimo c'è un'altra cosa che permette di di rendere ancora più facile le cose è dell'uso di eh degli alias vediamo che cosa si intende. Immaginiamo che ehm diciamo di di voler dare un altro naming al titolo perché abbiamo visto che le i link vengono creati sulla base del titolo però eh io voglio anche diciamo poter referenziare questa nota in un altro modo allora in questo caso qua vengono comodissimi gli alias che sono cioè diciamo degli altri modi per andare a eh referenziare questa ehm questa nota quindi se io ad esempio vado sulla mia eh sull'altra nota e voglio utilizzare eh voglio creare una connessione con questa nota qui quindi utilizzata a a questo punto vedete che c'è la possibilità di eh non soltanto andare a referenziare leggi di creazione universale quindi il titolo ma anche gli alias che mi faranno puntare però al proprio alla nota che è questo titolo quindi è sempre ovviamente la stessa quindi utilizzata da leggi universale di Newton e la notazione per farlo anche manualmente è questa cioè vado a eh mettere il titolo della 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 nota quindi il file il titolo della che c'è proprio sul file e poi vado a mettere una un testo che che è quello che voglio che appaia eh nella nella nota ora in questo caso me l'ha referenziata diciamo proprio perché l'ha trovata proprio perché c'era già l'alias eh diciamo in scritto quindi io ho settato questo modo posso anche farlo localmente cosa vuol dire posso posso anche andare semplicemente a scrivere che voglio referenziare questa nota ma voglio aggiungere un testo ehm diciamo un mio specifico di di questo testo quindi la legge universale che ha scritto Newton che ha scoperto Newton ok quindi vado semplicemente a utilizzare questo testo e che andrà a essere sempre linkato alla legge del testo universale però non necessariamente diciamo ho dovuto creare un alias per questo quindi ci sono due tipi di alias un alias che viene settato direttamente dal nella nota e quindi è fonte di referenziazione quando cerco una nota eh appunto cerco di linkare una nota quindi la posso linkare sia col titolo che con questi alias ma posso anche crearlo localmente e quindi sostanzialmente vado semplicemente a definire la la nota e vado poi a mettere un testo che ehm che voglio usare direttamente nel nel corpo della della nota stessa passiamo ora a un un'altra feature molto utile che sono quella dei dei tag anzi un altro feature direi utilizzo anche il termine plug in perché è comunque un plug in e ricordate che appunto obsida una struttura modulare che è quello dei tag eh tag in questo momento non abbiamo nessuno però io posso andare a eh appunto ad aggiungerli semplicemente con usando l'hashtag quindi ad esempio lo so mettiamo fisica e quindi avrò la mia nota con numero di appunto di note che sono riferimento fanno riferimento al tag di fisica eh posso anche cliccandoci sopra fare proprio una ricerca direttamente con la parola con parola appunto tag fisica e quindi vengono trovati tutti tutte le note che hanno che hanno questo tag anche questo eh posso sicuramente taggarlo come fisica e quindi vedete che già mi viene suggerito e quindi vado a a questo punto ad avere due note eh con eh che contengono appunto la il tag il tag fisica qua c'è la solita modo di appunto di andare a a vedere eh ad esempio ordinare i tag per frequenza o per nome adesso qua ne abbiamo ne abbiamo uno solo eh eh però appunto qua ci possono avere tutta una lista di tag quindi posso andare a cliccare e andare a vedere appunto tutte le note che sono sono taggate altra cosa interessante che la i tag sono ehm identificabili cioè quindi io posso mettere un tag del tipo scienza fisica e quindi ehm uh scusa qua ho fatto un po' questo centro fisica ok e quindi ho sicuramente il tag scienza però ho anche il tag fisica quindi posso fare una nota ad esempio di ehm io so biologi concetto di biologia e andare a mettere appunto scienza biologia e quindi avrò ehm ah scusate qua ho fatto scienza scienza ok avrò appunto il un tag fisica eh che adesso poi andiamo a mettere a posto un tag scienza biologia e un tag scienza fisica se vado a vedere questo posso andare ovviamente a mettere anche questo aspetto così a posto e quindi andarlo a perfetto quindi a questo punto ho due eh tag di scienza fisica due tag di un tag di scienza biologia e tag di scienza quindi posso andare a vederli tutti e tre perché ovviamente sono il padre è è comune quindi il tagging è ehm molto utile appunto per ehm diciamo aggiungere dei 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 metadati delle informazioni di contesto alle note ehm il mio consiglio è quello di usarli ma diciamo con moderazione proprio per evitare magari di avere tonnellate di tag che magari insomma fisica da teorica fisica sperimentale eh cioè inizia ad essere magari poi difficile anche magari capire che tag utilizzare quando ne ho tantissimi quindi eh l'idea almeno che suggerisco è quella di di utilizzare con parsimonia e soprattutto che abbia senso poi poter avere una come dire a livello di ricerca un'aggregazione no quindi se voglio vedere effettivamente in un colpo solo tutte le note di 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 fisica ce le ho qua appunto in maniera molto molto veloce chiudiamo poi con l'outline l'outline in questo caso serve quando ho ehm diciamo l'utilizzo di paragrafi quindi se io vado a mettere qua definizione e vado a mettere poi ehm referenza ehm quindi qua vediamo che sostanzialmente ci viene data la la struttura la struttura della del documento ehm posso ovviamente usando gli heading si può ehm andare poi a ehm vedete a innestare la cosa quindi avere una struttura un corpo della 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 nota appunto con poi dell'unico diciamo ehm gerarchico e quindi sostanzialmente questo perché definizione sta dentro è un un heading di 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 alto rispetto a questo qua il le le diciamo il numero di cancelletti più lo spazio appunto da il il livello di innesto attenzione ovviamente a mettere sempre lo spazio perché altrimenti diventa un link se quindi metto faccio questa cosa qua diventa diventa un link quindi abbiamo visto essere un'altra cosa Bene, per questo episodio è tutto, abbiamo visto quindi i link e i backlink fondamentali, mi ripeto, ma davvero fondamentali, i tag che possono essere estremamente utili per organizzare meglio i propri contenuti, le proprie note, gli outline che sono una delle note strutturate sicuramente aiutano per fare un po' di chiarezza sulla struttura appunto del contenuto. E nel prossimo episodio andiamo ancora alla scoperta di quello che manca, quindi altri plugin core che sono appunto quelli che vengono trovate a disposizione appena installato Obsidian, la nuova versione di Obsidian, quindi questa nuova versione che appunto mette a disposizione le nuove funzionalità e quindi andremo anche a scoprire queste. Per cui vi aspetto, a presto, ciao! Vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale per essere notificati dell'uscita di altri video e permettere a questo contenuto di essere trovato da altri che come voi vogliono sviluppare una nuova brain. Grazie a tutti!